La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo. Ho appena terminato la stesura della mia ultima inchiesta, il cartello finanziario. Gli apparati USA che hanno preso in ostaggio il nostro paese dal dopoguerra fino ad oggi. Dalla mole di documenti dei secretati e di prove ufficiali che ho trovato, trovo davvero assurdo che in Italia non sia mai stata fatta una inchiesta per trovare quel filo conduttore che unisce molti eventi che hanno destabilizzato il nostro paese. Sono state fatte tante commissioni di inchiesta, sono state fatte tante inchieste giudiziarie sui singoli eventi, ma mai una inchiesta per dimostrare che c'è stata una sorta di entità, quella che io nel libro chiamo il cartello comune, a tanti degli eventi che hanno destabilizzato l'Italia. Dalla creazione dell'Unione Europea in funzione anti-sovietica, lo abbiamo visto, inizialmente si chiamava American Committee on United Europe, comitato americano per la nascita dell'Unione Europea ed era diretta dallo spietato direttore della CIA Allen Dulles in funzione anti-sovietica, fino al conflitto di oggi in Ucraina in funzione anti-russa. Ma anche gli eventi che hanno destabilizzato il nostro paese dalla fine della prima repubblica all'imposizione dei governi tecnici in Italia, dalla strategia della tensione ed il sequestro di Aldo Moro fino agli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nessuno si è mai domandato chi ha ucciso la sovranità politica italiana. Dalla morte di Adriano Livetti all'attentato ad Enrico Mattei, chi ha ucciso la leadership tecnologica e l'indipendenza energetica dell'Italia? Esiste, a mio avviso e proverò a dimostrarlo, un solo comune denominatore di questi tragici eventi. Quello, ripeto, che ho chiamato cartello, che Veltroni in una sua intervista chiamava l'entità, ma non è stata fatta mai un approfondimento da parte dei magistrati o da commissioni parlamentari per capire come mai tanti nomi ritornano e sono sempre gli stessi. Tante organizzazioni li troviamo dietro tutti questi eventi che abbiamo elencato. Io non sono un magistrato, sono un giornalista, anche se all'interno di questa inchiesta ho un po' intrapreso il ruolo del PM, ho simulato una sorta di processo dove ho raccolto delle prove da mostrare, da fornire a un giudice virtuale, quel giudice che poi saranno i lettori. Ma quello che ritengo, lo ripeto, assurdo è l'aver trovato tante organizzazioni e tanti nomi che si sono ripetuti in tutti i fatti che ho analizzato, da Falcone a Borsellino, da Olivetti a Mattei, passando per Pasolini, certi nomi tornano sempre. Sono nomi che possono essere ricondotti ad una unica entità che ha agito nel tempo dietro questi eventi. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it, un caro saluto a tutti. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.